Sicuramente oggi si porta a compimento un progetto che è iniziato diverso tempo fa e che ha coinvolto in prima persona i nostri allevatori. Questo è sicuramente un gesto di grande generosità che dimostra come i nostri allevatori pur in un momento di forti difficoltà comunque sia abbiano ancora la forza per fare questi gesti di generosità che veramente sono immensi. Quindi il ringraziamento come i coldiretti va soprattutto a quegli allevatori che hanno partecipato attivamente alla buona riuscita di questa iniziativa. Tanti allevatori hanno avuto problemi qui in Abruzzo dopo il terremoto, tante aziende sono andate in ruvina, milioni e milioni di euro di danni, ma la scelta di far arrivare qui delle pecore, tra l'altro incinte, non è stato un caso? No, sicuramente è stato un ulteriore gesto di generosità perché ovviamente nasceranno degli agnelli che speriamo possano rappresentare anche la rinascita di questi territori che hanno avuto veramente un evento che ha provato fortemente le popolazioni. Noi speriamo che questo sia in realtà un primo passo verso un legame ancora più stretto tra le nostre popolazioni e le genti di Abruzzo. Quindi la coldiretti presente in queste occasioni sta facendo tanto per la Sardegna, per i nostri prodotti cambierà qualcosa poi nel prossimo futuro, anche per quelli che sono i prodotti nostrani esportati fuori? Certo, noi come coldiretti ci battiamo per il Made in Italy, ci battiamo affinché i prodotti locali vengano valorizzati perché la vera forza di tutto l'agroalimentare del Made in Italy sta proprio nei territori. Quello che sicuramente bisogna fare è puntare verso una filiera agricola tutta italiana e firmata dagli agricoltori. Noi siamo sicuri che questo progetto arriverà alla fine e siamo sicuri che riusciremo a portare tutti quanti i nostri prodotti in tutto quanto il mondo. Siamo in compagnia con Michele Enrico che è il direttore al coldiretti Abruzzo, sicuramente una regione provata, una grande rinascita anche grazie al vostro lavoro. Sì, grazie al nostro lavoro sicuramente. Credo che questa sia una giornata di grande significato per noi, per una serie di motivi. C'è stata anche della commozione fra molti dei nostri allevatori. Questo lo dobbiamo al popolo sardo, a voi sardi, perché avete chiuso un percorso in maniera simbolica ma di grande significato, perché dal 6 aprile coldiretti Abruzzo è stata qui a presidiato il territorio per dare solidarietà a tutto il popolo aquilano, a volte rinunciando a farlo direttamente con il mondo agricolo, ma era un momento quello che andava vissuto in quella maniera. Oggi è una giornata che celebriamo per il mondo agricolo e di questo siamo orgogliosi di aver ricevuto e di farlo con il popolo sardo perché questo atto di solidarietà è un grande atto di incoraggiamento per gli allevatori abruzzesi perché molti di essi volevano dismettere, volevano abbandonare il territorio. Questo territorio senza zootecnia e senza tutto ciò che è l'indotto, che ne scaturisce, è un territorio che non avrebbe senso. Sono nati molti agnellini qua, quindi alcuni agnellini ormai sono abruzzesi, questo è sicuramente un modo come per dire stiamo andando avanti, c'è una rinascita in corso. Assolutamente sì ed è questo quello che temevamo in senso positivo, volevamo questo, era necessario avere e vivere una giornata del genere perché come vedrete anche dalla grande partecipazione che c'è, è un incoraggiamento che ancora una volta parte dal mondo agricolo, eravamo già il 6 mattina qui, oggi con questo gesto il mondo agricolo sa indicare agli altri quali possono essere le strade per il rilancio, il rilancio dell'economia naturalmente. Molti milioni di euro di danni purtroppo, tanti allevatori hanno perso anche le loro aziende, quanto tempo crede passerà prima di riuscire a ristabilizzare quella che è l'economia poi di queste persone, di queste aziende? Guardi, il tempo purtroppo io non posso stabilirlo, speriamo presto comunque perché diva addio insomma a parte questo momento legato alla zootecnia, a questo territorio, è bene ricordare che il terremoto sia anche stato circoscritto ad un'area, quella del cratere con dei comuni aquilani, alcuni di Pescara e alcuni di Teramo, è affermato l'economia in tutto l'Abruzzo per cui tutti gli altri settori produttivi ne hanno risentito, pensate che la Pasqua che per l'Abruzzo apre la stagione turistica e il turismo qui è di grande significato, di grande importanza per l'economia, non c'è stata, non c'è stata una stagione turistica, gli alberghi erano impegnati e occupati dagli sfollati, motivo questo che ha affermato tutto, per cui dal settore vitivinicolo che è quello più rappresentativo d'Abruzzo all'olivicolo, alla zootecnia c'è un fermo, c'è stato un fermo, adesso c'è un accenno di ripresa e questi atti, queste giornate servono per incoraggiare.